Una infinità di combinazioni perché tante sono le squadre giunte all'ultima giornata di Serie B alle prese con problemi di classifica e quindi a rischio retrocessione. Acclarato che il Como è già in Lega Pro, ci sono in lotta con situazioni differenti in Livorno, la Salernità nel Modena e Lanciano in Latina soprattutto, ma anche altri team cui potrebbero andare storto alcuni risultati ritrovandosi clamorosamente di nuovo in lizza per lo spareggio salvezza quantomeno. L'ultimo turno di Serie B di venerdì sera mette di fronte alla Salernità un Como che ha battuto a sorpresa lo Spezia nella gara dell'altro giorno, Como quindi che non regalerà nulla anche se la Salernitana avrà dalla sua uno stadio orecchi ribollente pienissimo e avrà in campo motivazioni ben diverse dai lariani. Il Livorno affronterà il Lanciano, il Latina il Pescara, il Modena e il Novara, tutte gare più complicate rispetto a quella della Salernitana, insomma bisognerà vincere. e poi attendere i finali dagli altri campi. Le possibilità di salvarsi anche senza i play-out sono parecchie, ma ce ne sono anche al contrario per il rischio retrocessione oppure spareggio. Cominciano le prime manovre di mercato per la Paganese, ormai certo l'addio del bomber caccavallo e il giocatore ambizioso dopo i tanti gol realizzati quest'anno attenderà a quanto pare una chiamata dalla Serie B, forse per lui è anche l'ultimo treno per salirci su. Tra i pali si sta cercando un giovane che possa surrogare Marruocco che dovrebbe lasciare. Intanto è stato operato l'attaccante Cicerelli, intervento al menisco perfettamente riuscito. Il patron Trapani non vuole farsi trovare impreparato, quest'anno vuole regalare a Grassadone una squadra già pronta per il ritiro che dovrebbe tenersi anche stavolta ad Acquasanta Terme. Cittadino Cere, infine, è molto probabile che il ritiro precampionato si svolga sul Mona in via di definizione un accordo tra la società e l'azienda che gestisce alcuni alberghi in tutta Italia compresi alcuni nel territorio dell'agro e del Salernitano. Calciomercato, la dirigenza sta lavorando per confermare alcuni giovani, in particolare Ciotti e Vitolo seppure questi due elementi abbiano offerte da società di categoria superiore.